ciao a tutti amici di terma view nuovo unboxing ed oggi andiamo a scoprire la steelbook di dexter new blood la nuova stagione di dexter che ci presenta la vita di dexter dieci anni dopo la fuga in barca non vi dico di più perché magari c'è chi non ha mai visto la serie anche se parliamo di una serie che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita una nuova serie che ha fatto molto parlare di sé soprattutto per gli sviluppi finali ma probabilmente non non c'era un finale diverso da questo nel senso che non può essere non ci può essere un finale se siamo voluti bene ragazzi quindi onestamente a me è un finale che ha convinto probabilmente un po frettoloso però ha convinto ma andiamoci a spizzare questa bella steelbook qui abbiamo il bel faccione di dexter morgan nella parte posteriore guardate qui che figata questa splendida splendido artwork con questa striscia di sangue la macchina insomma di dexter e poi il rifugio dove lo ammiriamo in questa nuova stagione in questo suo ritorno all'interno abbiamo quattro dischi blu ray ci sono anche un po di extra circa una quarantina di minuti anche c'è l'unico test l'unico extra abbondante è un making off sulla serie che prende anche un po qualche spunto anche dai precedenti extra e poi abbiamo tutti i dischi questo è il primo disco e poi ci sono tutti gli altri ma ho tolto il primo e vado a togliere anche il quarto per mostrarvi anche l'art l'artwork interno io vi ricordo che questa è la prima steelbook di dexter non erano mai uscite in italia steelbook dedicate alla serie non so se magari pubblicheranno mai steelbook anche della serie originale ma questa è sicuramente una ottima uscita che io vi straconsiglio se vi piace la serie inutile dirvi che si vede stra bene audio italiano purtroppo 5.1 dolby digital ma per un prodotto televisivo va più che bene e che dirvi ragazzacci se vi piace questa steel io vi lascio il link in descrizione di amazon e tv di storia che sono i miei punti di riferimento per quanto riguarda l'acquisto online se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace perché fa sempre piacere e se invece fa piacere a voi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video ciao ciao a tutti